Musica Out No 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 Non è vero, non è vero, ma non è vero Ha preso un gesto Pascal, ma come fai a me Fragge da! C'è il giallo il giallo! C'è il giallo il giallo! Come si vieni? Madonna! C'è il giallo! Tu sai cosa hai fatto, è sufficiente! Tu sai cosa hai fatto! Non fa' anche questo per me! Non è sufficiente! È sufficiente! È sufficiente! È molto stile. Mi piace di vedere perché è incredibile! Il giallo calabrese, do the mambo like a cre... Tu mi stas dicendo a me! 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 What app on your phone do you use the most? iPhone! F*** point! Il giallo calabrese, do the mambo like a cre... A european sisi! Sì! Proma! Eh, mamma mia! What a brave challenge from Salvatore Caruso! Oh, he's not happy either! No, and that's disappointing! That finish to have those words! Perché è stato un'amaisa match tra questi due. Chi si ha fatto il tiebreaker, vuol dire... Chiudere un spice, come quando c'è il cuore, aggiungere il spice. I don't like spice. It says, here, I like my food plain, no spice. Perfecto. Roquefort, la terba, tu, c'è magnifique. Fognini è il più vicino a un bonafide tennis artiste. These are your words. Luffa, cowabunga, dingus, blip, poinsettia, o boobie? Boobie. You're gonna choose that one, okay. Boobie. Perché sono nato in clay, sono italiano. Non muro mozzarella. Quindi la mia tutta scuola era in clay. Quindi, in questo momento, è così. Quanto sono alto? Ma questo, mamma mia, non si arriva. Bravo. Baby, just a kiss goodnight. Baby, just a kiss goodnight. Maybe, you and I will fall in love. Baby, just a kiss goodnight. 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 Grazie.